Termina in parità il test amichevole del Rende di Castrovillari, Brindisi con una difesa largamente rimaneggiata, padrone di casa avanti dopo appena due minuti con Trentinella, ma al ventiduesimo, e Cerone con una delle sue magie su calcio di punizione a riequilibrare la contesa. Splendida davvero l'esecuzione dell'ex calciatore del Savoia, tre gol in tre test amichevoli. Sul finire della prima frazione il Brindisi ribalta il risultato con Loris Palazzo, altro calciatore che ha offerto ottimi spunti durante questa fase di ritiro. La carra scorta il pallone, tra due calciatori calabresi si inserisce il giovane Palumbo che serve appunto Palazzo. Pallone nell'angolino Castrovillari, uno, Brindisi due. Poi girandola di cambi, da una parte e dall'altra con De Luca che mette in campo tutti e ventiquattro i giocatori a disposizione. Al cinquantasettesimo infine giunge il definitivo due a due con un colpo di testa di Principi per il definitivo pareggio che chiude il test amichevole. Tutti i ragazzi stanno crescendo bene, stanno anche i più giovani o chi viene dal settore giovanile ha disputato questa partita. Quindi diciamo che la squadra sta crescendo nel modo giusto. Dobbiamo mettere a punto alcune cose però le amichevoli servono a questo.